Noi cerchiamo di essere sempre sulla cresta dell'onda, diciamo io ne ho fatto come una filosofia di vita, sia della palestra sia del judo in generale, perché io repito il judo una disciplina di alta qualità morale, educativo soprattutto per i giovani. Tanto è vero che l'UNESCO l'ha eletta come patrimonio dell'umanità per lo sport, nello stesso tempo il CIO lo repito come lo sport più completo per lo sviluppo psicofisico dei bambini che vanno dai 4 ai 20 anni, 21 anni, quindi diciamo io su questo mi sono ritrovato e ho portato avanti questa idea per tutta la mia vita, dall'età di 15 anni fino adesso. La nostra palestra ha avuto tantissimi risultati, abbiamo avuto diversi campioni nel passato, fra tutti posso citare Amedeo Cottoni che ha vinto tutti i campionati d'Italia fino ad arrivare all'assoluto, ha avuto partecipazione ai mondiali all'europeo, settima ai mondiali juniores, Giovanni Parisa Senza campione italiano, poi juniores assoluto, ha vinto anche lui, ha partecipato ai mondiali universitari facendo settimo, insomma Peppe Zisa campione d'Italia, Causa Rano quattro medaglie d'argento, insomma ne potrei dire tante, Bossettini che qua la tecnica che si vede, questa tecnica fatta e fatta da questo grandissimo atleta, Gabriele Bossettini è stato fortissimo, anche lui come cicciarella è andato a fare gli europei cadetti, ha vinto il campione italiano cadetti e ha fatto anche il festival della gioventù, l'EI-Off, si chiamano l'EI-Off che sono una sorta di mini olimpiade per gli atleti di tutta Europa, per i ragazzi di tutta Europa. In questo momento io sono il tecnico della rappresentativa siciliana per cui la nostra palestra ho avuto questo riconoscimento già da diversi anni, facciamo i corsi per gli asperanti allenatori qua a Cicli, a Modica, Cicla e Modica, in cui c'è la palestra del mio allievo Daniele Alfano che sta avendo ottimi risultati pure lui e sono molto contento e orgoglioso. Poi ci sono un sacco di ragazzi fra cui mio figlio che quest'anno è andato benissimo, sono orgoglioso pure di lui, Raffaele Verdirame, Scivoletto, Mililli, l'anno scorso è arrivato medaglia d'argento alla Coppa Italia, grossissimo risultato, Vincenzo Portelli, insomma ce ne sono un bel pochi, magari qualcuno mi sfuggerà il nome in questo momento, però i ragazzi stanno andando molto bene. Un'altra cosa molto bella è che abbiamo per esempio dei ragazzini tipo Cito Matteo Agosta, che lui faceva parte di una palestra di Ragusa e ha deciso di venire stati allenati nella nostra palestra a Cicli perché l'arrivo da una palestra di livello molto alto, per cui il papà fa questo sacrificio insieme a un altro bambino che si chiama Carnemolla perché praticamente il padre è un mio allievo che ormai è sposato a Ragusa, però continua a portare il figlio qua a Cicli.